Con il Fab Lab Fano è una città più europea attraverso il progetto Erasmus e Making Class in cui il Fab Lab e l'assessorato alle politiche giovanini sono coinvolti come partner. Questo progetto Making Lab è un progetto europeo che ci connette con altri tre paesi, Francia, Germania e Malta e che ci permette comunque di stare in una rete internazionale e dare nuovi impulsi e nuove visioni a quelle che sono le nostre politiche giovanili. Da domani 3 luglio a partire dalle 16 nello stupendo scenario della Rocca Malatestiana si svolgerà un micro festival all'insegna della musica e delle tecnologie digitali con il supporto dell'innovativo spazio sperimentale del Fab Lab che attraverso la Casa della Musica delinea la sua grande originalità rispetto ai Fab Lab tradizionali. Alla Rocca verranno installate scenografie per eventi musicali e convegni scientifici in cui la musica, le luci e le tecnologie lavoreranno tra di loro. Il partner di questo progetto sono l'ente di formazione e coordinatore del progetto il Fab Lab di Monaco di Baviera e quello spagnolo di Bilinedu. Ovviamente anche gli istituti scolastici di formazione come il Ginnagio di Monaco e l'Mcast di Malta e ovviamente il nostro Polo 3 sono partner di questo progetto europeo. In pratica l'idea, l'obiettivo nostro è di cercare di riandare a rimotivare questi ragazzi per contrastare un po' quello che è il grosso fenomeno dell'abbandono scolastico e rimotivarli dal nostro punto di vista e prenderli in quelle che sono le loro passioni quotidiane quindi come l'utilizzo degli smartphone, dei cellulari o di strumenti come possono essere i droni o stampanti che adesso vanno di moda, le stampanti 3D o altre cose che comunque loro spesso usano nella loro quotidianità.